ogni quel volta rifacevo solo materialmente quel medesimo passo esso restava inutile per me ma se dimenticando la mattina e germantes riuscivo a ritrovare ciò che avevo avvertito posando i piedi in quel modo di nuovo la visione abbagliante e indistinta mi sfiorava come per dirmi cogli il mio al volo se ne hai la forza e tenta di risolvere l'enigma di felicità che ti propongo e quasi subito la riconobbi era venezia di cui nulla mi avevano suggerito i miei sforzi volti a descriverle e le presunte istantanee raccolte dalla mia memoria e che la sensazione avvertita un tempo su due lastre ineguali del battistero di san marco mi aveva restituito con tutte le altre sensazioni quel giorno ad essa collegate e che erano rimaste in attesa serbando l'ordine da cui una brusca venienza le aveva tratte imperiosamente nella successione dei giorni dimenticati allo stesso modo il sapore della piccola madren mi aveva rammentato con brè ma perché le immagini di con brè e di venezia mi avevano dato nell'uno e nell'altro istante una gioia simile e una certezza sufficiente senza ulteriori prove a rendermi la morte indifferente mentre me lo chiedevo risaluto a trovare la risposta in giornata entrai a palazzo germantes giacché all'intimo compito cui dobbiamo assolvere preponiamo sempre il ruolo apparente che recitiamo e che quel giorno era quello di un invitato ma giunto al primo piano un maggiordomo mi chiese di entrare un momento in una piccola biblioteca tigua al buffet fin tanto che il brano che stavano suonando non fosse finito perché la principessa aveva proibito di aprire le porte durante l'esecuzione ora in quel medecimo istante un secondo avvertimento venne a rafforzare quello che mi avevano dato le due pietre sconnesse e ad esortarmi a perseverare nel mio intento di fatti un domestico nel suo sforzo infruttuoso di non far rumore aveva appena urtato un cucchiaio contro un piatto mi invase lo stesso genere di felicità infusami dalle pietre sconnesse era ancora una sensazione di grande calore ma del tutto diversa mista a un odore di fumo addolcita dal fresco profumo di una cornice boschiva e riconobbi che ciò che mi pareva così gradevole era la stessa schiera di alberi che avevo trovato noiosa da osservare e da descrivere e davanti alla quale stappando la bottiglia di birra che avevo in treno avevo creduto per un istante di ritrovarmi in una sorta di stordimento tanto quell'identico rumore del cucchiaio contro il piatto mi aveva dato prima che avessi avuto il tempo di riavermi l'illusione del rumore di martello di un ferroviere che aveva aggiustato qualcosa a una ruota del treno mentre ci eravamo fermati dinnanzi a quel boschetto si sarebbe allora detto che i segni che dovevano quel giorno trarmi dall'avvilimento e restituirmi la fede nelle lettere prendessero a cuore il moltiplicarsi poiché dopo che un maggiordomo da molto tempo al servizio del principe di garmantes riconosciutami mi aveva portato nella biblioteca dove mi trovavo e per evitarmi di andare fino al buffet un vassoio di pasticcini e un bicchiere di aranciata mi asciugai la bocca col tovagliolo che mi aveva dato ma subito come il personaggio delle mille una notte che senza saperlo compiva per l'appunto il rito che faceva apparire visibile a lui solo un docile genio pronto a trasportarlo lontano una nuova azzurra visione passò davanti ai miei occhi ma era un azzurro puro e salino che si gonfiò in sinuosità bluastre l'impressione fu così forte che il momento che rivivevo mi sembrò presente più in abitito del giorno in cui mi chiedevo se stavo davvero per essere ricevuto dalla principessa di garmantes o se tutto non sarebbe presto sprofondato nel nulla credevo che il domestico avesse appena aperto la finestra che dava sulla spiaggia e che ogni cosa mi invitasse a scendere per andare a passeggio lungo l'arcine con l'alta marea il tovagliolo che avevo preso per asciugarmi la bocca aveva la stessa rigidezza inamidata dell'asciugamani con cui avevo tanto faticato a terzermi davanti alla finestra il giorno del mio arrivo a Balbech e ora davanti a quella biblioteca di palazzo Germantes spiegava, ripartito nei suoi lembi e nelle sue pieghe il piumaggio di un oceano verde e blu come la coda di un pavone e non gioivo soltanto di quei colori ma di tutto un istante della mia vita che li suscitava che certo era stato aspirazione ad essi di cui qualche sentimento di stanchezza o di tristezza mi aveva forse impedito di gioire a Balbech e che ora, liberato da quanto vi è di imperfetto nella percezione esteriore puro e disincantato mi riempiva di allegria il brano che stavano suonando poteva finire da un momento all'altro e potevo essere costretto ad entrare nel salotto per questo mi sforzavo di vedere chiaro il più presto possibile nella natura di quei piaceri identici che avevo provato tre volte in pochi minuti e di trarne quindi il dovuto insegnamento sull'estremo divario che sussiste tra l'impressione vera che abbiamo avuto di una cosa e l'impressione fittizia che ce ne procuriamo quando tentiamo di rappresentarcela non indugiavo rammentando troppo bene con quale relativa indifferenza Swam aveva potuto un tempo parlare dei giorni in cui era amato perché, dietro quella frase vedeva qualcosa di diverso da ciò che essi erano e l'improvviso dolore che la piccola frase di Venteri gli aveva provocato restituendogli proprio quei giorni tali e quali li aveva un tempo vissuti capivo fin troppo bene che ciò che la sensazione dell'astricato sconnesso la ruvidezza del pavagliuolo il sapore della Madeleine avevano risvegliato in me non aveva alcun rapporto con ciò che spesso cercavo di ricordare di Venezia di Balbech di Combré con l'aiuto di una memoria uniforme e capivo come la vita potesse essere giudicata mediocre benché in certi istanti appaia così bella perché, nel primo caso la si giudica e la si deprezza sulla base di tutt'altra cosa della vita stessa su immagini che nulla servano di essa tutt'è più notavo in via accessoria che la differenza tra ciascuna delle impressioni reali differenze che spiegano perché una pittura uniforme della vita non riesca ad essere somigliante dipendeva probabilmente da questo che la minima parola da noi pronunciata in una certa epoca della nostra vita il gesto più insignificante da noi compiuti erano circondati portavano su di sé il riflesso di cose che non avevano attinenza logica con essi e sono stati separati dall'intelligenza che di quelle cose non aveva bisogno ai fini del ragionamento ma in mezzo alle quali qua un riflesso rosa della sera sul muro fiorito ad un ristorante campestre una sensazione di fame il desiderio di una donna il piacere del lusso là le volute azzurre di un mare mattutino che avviluppa frasi musicali le quali ne emergono parzialmente come le spalle delle ondine il gesto l'atto più semplice restano racchiusi come mille vasi suggellati ciascuno dei quali è pieno di cose d'un colore d'un odore d'una temperatura assolutamente differenti senza contare che quei vasi disposti lungo l'intero crinale dei nostri anni durante i quali non abbiamo smesso di cambiare forse pure solo in sogno o quel pensiero sono situati ad altitudini ben diverse e ci danno la sensazione di atmosfere singolarmente variegate è vero che quei mutamenti li abbiamo compiuti impercettibilmente ma tra il ricordo che torna bruscamente a noi e il nostro stato presente così come tra due ricordi di anni luoghi ore differenti la distanza è tale che basterebbe questa al di là di qualsiasi originalità specifica a rendere gli uni incomparabili agli altri e se il ricordo grazie all'oblio non ha potuto contrarre alcun legame congiungendo alcun anello tra sé e l'attimo presente se è rimasto al proprio posto alla propria data se è mantenuto le distanze il suo isolamento nell'incavo di una valle o sul picco di una montagna ad un tratto ci fa respirare un'aria nuova appunto perché è un'aria che un tempo abbiamo respirato quell'aria pura che i poeti hanno tentato in vano di far regnare nel paradiso e che non potrebbe dare quella sensazione profonda di rinnovamento se non fosse già stata respirata poiché i veri paradisi sono i paradisi che abbiamo perduto ed sfuggito notavo che in quell'opera d'arte che mi sentivo già pronto senza essermici coscientemente risolto a intraprendere grandi difficoltà mi avrebbero atteso avrei dovuto eseguirne infatti ogni successiva parte in una materia in qualche modo diversa e che sarebbe stata ben diversa da quella adatta ai ricordi di mattini in riba al mare o di pomeriggi a Venezia se volevo ritrarre quelle sere di riba al bel dove nella sala da pranzo aperta sul giardino il calore cominciava a decomporsi a ricadere a depositarsi dove un ultimo sprazzo di luce accendeva ancora le rose sui muri del ristorante mentre gli ultimi acquarelli del giorno erano ancora visibili in cielo in una materia distinta nuova di una trasparenza di una sonorità speciale compatta rinfrescante erosea sorvolavo rapidamente su tutto questo imperiosamente sollecitato com'ero a cercare la causa di quella felicità del carattere di certezza con cui si imponeva ricerca un tempo rinviata ora quella causa la presagivo paragonando tra loro quelle diverse impressioni e che avevano questo in comune che avvertivo il rumore del cucchiaio sul piatto la diseguaglianza dell'astricato il sapore della Madeleine nell'attimo presente e al tempo stesso in un istante lontano al punto da far sconfinare il passato sul presente di esitare non sapendo in quale dei due mi trovassi a dire il vero l'essere che allora assaporava in me quell'impressione l'assaporava in ciò che essa aveva di comune in un giorno remoto e nel presente in ciò che aveva di extra temporale un essere che appariva solo quando per una di quelle identità tra il presente e il passato poteva trovarsi nell'unico ambiente in cui potesse vivere gioire dell'essenza delle cose vale a dire al di fuori del tempo ciò spiegava perché le mie inquietudini a proposito della mia morte fossero cessate nel momento in cui avevo riconosciuto inconsapevolmente il sapore della piccola Madeleine poiché in quel momento l'essere che ero stato era un essere extra temporale e dunque incuranti delle vicessitudini dell'avvenire viveva della sola essenza delle cose e non poteva coglierla nel presente dove non entrando in gioco l'immaginazione i sensi erano incapaci di fornirgliela lo stesso avvenire verso cui tende l'azione la abbandona a noi quell'essere non era mai venuto in me non si era mai manifestato se non al di fuori dell'azione del godimento immediato ogni volta che il miracolo di un'analogia mi aveva consentito di sfuggire al presente lui solo aveva il potere di farmi ritrovare i giorni passati il tempo perduto dinnanzi al quale gli sforzi della mia memoria e della mia intelligenza si arenavano sempre e forse se poco prima trovavo che Bergotto aveva detto il falso parlando delle gioie della vita spirituale era perché in quel momento chiamavo vita spirituale dei ragionamenti logici che non avevano alcun legame con essa con ciò che esisteva in me in quel momento esattamente come avevo potuto trovare noiose la società e la vita perché le giudicavo in base a ricordi senza verità mentre ora avevo una tale voglia di vivere da far rinascere in me a tre riprese un momento autentico del passato soltanto un momento del passato molto di più forse qualcosa che comune sia al passato sia al presente è ben più essenziale di ambe due quante volte nel corso della mia vita la realtà mi aveva deluso perché nell'istante in cui la percepivo l'immaginazione che era l'unico organo di cui disponevo per godere della bellezza non poteva applicarsi ad essa in virtù della legge inevitabile la quale prescrive che si possa immaginare solo ciò che è assente ed ecco che d'improvviso l'effetto di questa dura legge era stato neutralizzato sospeso da un meraviglioso espediente della natura che aveva fatto balenare una sensazione rumore della forchetta e del martello stesso titolo di libro eccetera sia nel passato cosa che permetteva alla mia immaginazione di gustarla sia nel presente dove l'effettiva vibrazione dei miei sensi a causa del rumore del contatto col tessuto aveva aggiunto alle fantasie dell'immaginazione ciò di cui sono di solito sprovviste l'idea di esistenza e grazie a quel sotterfugio aveva permesso al mio essere di ottenere di isolare di immobilizzare per la durata di un lampo ciò che non si può mai afferrare uno sprazzo di tempo allo stato puro l'essere che era rinato in me quando con un tal fremito di felicità avevo udito il rumore comune sia del cucchiaio che tocca il piatto sia il martello che batte sulla ruota o il lastricato diseguale sotto i miei passi tanto nel cortile dei Germantes quanto nel battistero di San Marco ecco questo essere si nutre solo dell'essenza delle cose soltanto in essa trova sostentamento e delizia langue nell'osservazione del presente dove i sensi non possono procurargliela nella considerazione di un passato che l'intelligenza gli inaridisce nell'attesa di un futuro che la volontà costruisce con frammenti del presente e del passato cui sottrae ancora un po' di realtà conservando di essi ciò che si confà al fine utilitario strettamente umano che assegna loro ma basta che un rumore un odore già uditi o respirati un tempo lo siano di nuovo nel passato e insieme nel presente reali senza essere attuali ideali senza essere astratti perché subito l'essenza permanente e solitamente nascosta delle cose sia liberata e il nostro vero io che talvolta da molto tempo sembra morto anche se non lo era ancora del tutto si svegli si animi ricevendo il celeste nutrimento che gli è così recato un istante affrancato dall'ordine del tempo ha ricreato in noi perché lo si avverta l'uomo affrancato dall'ordine del tempo ed è comprensibile che costui confidi nella propria gioia sebbene il semplice sapore di una Madeleine in apparenza non contenga logicamente le ragioni di questa gioia è comprensibile che la parola morte non abbia senso per lui situato com'è fuori del tempo che cosa potrebbe mai temere dell'avvenire in apparenza